ma è tutto viola perché? Grazie. 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 Ma come con ogni tipo di potere? Ci sono quelli che se ne vogliono impatronire? Grazie. L'intero patrimonio scientifico e culturale pubblicato nel corso dei secoli, i libri e le viste è sempre più digitalizzato, tenuto sotto chiave da una manciata di società private. Vuoi leggere le viste che ospitarono i più famosi risultati scientifici? Dovrei pagare, non mi so come abitico ricomere questa via. Dovrei pagare. Dovrei pagare. Dovrei pagare. Dovrei pagare. C'è chi noce a dover cambiare il nostro paese. C'è chi noce a dover cambiare il nostro paese. Ho detto questo. Il movimento Open Access si basse valorosamente perché gli scienziati non cedano i propri diritti d'autore e pubblichino invece s'internet. a condizioni che consentono l'affetto a tutti. Ma anche nella migliore dell'e-topus il libro lavorava da solo per le cose pubblicate in futuro. Tutto ciò che è stato pubblicato fino ad oggi sarà perduto. Tutto ciò che è stato pubblicato fino ad oggi sarà perduto. 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 Questo è un prezzo troppo alto da pagare. Forzare i ricercatori a pagare per leggere il lavoro dei loro colleghi. Scansionare intere biblioteche, ma consentire solo alla gente che lavora da Google di leggerne libri. Fornire articoli scientifici alle università dell'Italia del primo mondo, ma non ai bambini del sud del mondo. Tutto ciò è un prezzo troppo alto che è inaccettato da inaccettata. Inaccettato da inaccettata. Inaccettata da inaccettata. Inaccettata da inaccettata. Sono d'accordo, dicono i morti, ma cosa possiamo fare? Le società detengono i diritti d'autore, guadagnano enormi somme di denaro, facendo pagare l'accesso, ed è tutto perfettamente legale, non c'è niente che possiamo fare da fermarli. Ma qualcosa che possiamo fare c'è, qualcosa che è già stato fatto, possiamo contrattaccare. Tutti voi che avete accesso a queste risorse, studenti, bibliotecari o scienziati, avete ricevuto un privilegio. Potete nutrirvi al banchetto della conoscenza, mentre il resto del mondo rimane chiuso fuori. Ma non dovete, anzi, moralmente, non potete conservare questo privilegio solo per voi, avete il dovere di condividerlo con il mondo. Avete il dovere di scambiare le password sui colleghi e scaricare gli articoli per gli amici. Condividerlo con il mondo. Condividerlo con il mondo. Condividerlo con il mondo. Tutti voi che siete stati chiusi fuori, non starete a guardare nel frattempo. Vi truffolerete attraverso i buchi, scavarcherete le recensioni e libererete le informazioni che gli editori hanno chiuso e le condividerete con i vostri amici. Ma tutte queste azioni sono condotte nell'assessibilità oppure in accosta. Sono chiamate pulso o piraterie come se condividere con un'idenza, con l'equivalente morale, staccheggiare una nave ed assassinarne l'equipaggio. Ma condividere non è immorale, è un imperativo morale. La pirateria è un imperativo morale. Solo chi fosse accettato dalla dignità rifiuterebbe di concedere una goglia. E le grandi multinazionali, fortemente, sono accettate dalla dignità. Le tre leggi a cui sono sottoposte richiedono che si hanno accettato dalla dignità. Le costituite fosse, i loro affinisti, tipo di regola. E i politici, corrutti dalle grandi aziende, le supportano a trovare le panchette. Non c'è giustizia nella rispettare leggi giuste. Non c'è giustizia nella rispettare leggi giuste. E' tempo di uscire all'occoberto e nella grande tradizione della dignità civile, di chiamare la nostra opposizione a questo punto privato della cultura pubblica. Dobbiamo acquisire le informazioni, ovunque siano affidiate, farne copie e condividerle con il mondo. Dobbiamo prendere ciò che è fuori dal diritto d'autore e caricarlo su internet e da scrivere. Dobbiamo acquistare pacche dati segrete e metterle su lui. Dobbiamo incaricare le liste scientifiche e caricarle sulle reti di condivisione. Dobbiamo lottare per la guerriva o benazze. Se in tutto il mondo faremo il numero sufficiente, non solo manderemo un forte messaggio contro la privatizzazione della conoscenza, ma renderemo un ricordo del passato. Puoi essere i nostri, i nostri, i nostri. Sì. Mani per il progetto, mento, 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 mento. Mi hanno arrestato un altro oggi e su tutti i giornali. Cinegra ha arrestato tassini nei giornali. Ha arrestato tre tassini tra loro in una banca. Ma voi, con la vostra psicologia da due soldi e il vostro tecno cervello da anni cinquanta, avete mai guardato dietro agli occhi della Hacker? Vi siete mai chiesti cosa lo stimola? Che forse lo ha sformato? Cosa può averlo portato? Io sono un Hacker. Entra nel mio mondo. Il mio mondo che comincia con la scuola. Sono più intelligente della maggior parte degli altri ragazzi. Queste sciocchezze che ci insegnano mi annoiano. Dall'altro ragazzo, no, non ti insegnano. Sono tutti in guardia. Tutti in guardia. Sono alle medie oniceo. Ho sentito i professori spiegare per la quindicentima volta come ridurre un'attrazione. L'ho capito. No, signora Bitt, non ho scritto il procedimento. L'ho fatto nella mia testa. Dall'altro ragazzo, no, probabilmente non impiavano. Sono tutti in guardia. Ho fatto una scoperta oggi. Ho trovato un computer. Aspetta un secondo. Questo è figo. Fa quello che voglio che faccia. Se fa un errore è perché io ho sbagliato. Non perché non gli piaccio. O perché si sente rinacciato da me. O perché pensa che io ti ho una testa di cazzo. O perché non gli piace insegnare e non dovrebbe essere qui. O perché? O perché non gli piace insegnare. O perché non gli piace insegnare. O perché non gli piace insegnare. sul mondo. Correndo per la linea telefonica, come la ruina nelle vene di un drogato, un impulso elettronico è stato inviato. Un rifugio dall'incompetenza quotidiana è stato trovato. Ho scoperto un volume. Questo. Questo è il foto a cui appartenzo conosco tutti qui. Anche se non li ho mai incontrati, non ho mai parlato con loro, potrei non avere mai più loro notizie. Io conosco tutti loro. Dannato ragazzino. Sta occupando di nuovo la linea telefonica. Sono tutti uguali. Tutti. Uguali. Puoi scommettarci il numero che siamo tutti uguali. Ci hanno invocato notizie di stagia a scuola quando tornavamo in tempo. I pezzi di carne che avete lasciato passare erano premasticati e sapori. Ci hanno invocato notizie di stagia a scuola quando tornavamo di secca. I pezzi di carne che avete lasciato passare erano premasticati e sapori. Prevasticati e sapori. Siamo stati dominati da statici o ignorati da adatici. Ignorati da adatici. Siamo stati dominati da statici o ignorati da adatici. I pochi che avevano qualcosa da insegnarci. Hanno trovato in noi desiderotti allievi, ma quei pochi sono come gocce d'acqua nel deserto. Questo è il nostro mondo adesso. Il mondo dell'elettrone è lo wish, la bellezza della banda. Noi usiamo un servizio che esiste da, senza pagare per qualcosa che sarebbe schifosamente economico, se non fosse gestito da adingurdi e ci chiamate criminali. Ci chiamate criminali. Ci chiamate criminali. Noi es togliamo di avanti. Noi cerchiamo di avanti. Ci chiamate criminali. Noi cerchiamo di avanti. Noi cerchiamo della bluscia. E ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza colore della versione. Senza nazionalità, senza pregiudizio religiosi e ci chiamate criminali. Voi costruite bombe atomiche, voi provocate guerre, voi uccidete, ingannate e mentite e cercate di farci credere che è per il nostro bene, eppure siamo noi criminali. Sì, sono un criminale. Sono un criminale. Sono un criminale. Criminale. Il mio crimine è la curiosità. Il mio crimine è giudicare le persone per quello che dicono e pensano, non per il loro aspetto. Il mio crimine è stato sul classabile. Qualcosa per cui non vi perdonerete mai. Io sono una hacker. E questo è il mio manifesto. Potrete anche fermarmi, ma non potete fermarci tutti. Dopotutto siamo tutti uguali. Tutti, tutti uguali. Questa piccola performance l'abbiamo immaginata. E' stato, diciamo, una nuova di squadra, Bibi ha curato l'aspetto della scelta delle tracce. Ale, Lucilla, Mauri mi hanno dato una mano a costruire un po' il senso. Abbiamo scelto insieme i testi. Abbiamo pensato insieme come mettere le cose. Stiamo cercando di restituirvi un'esperienza che in qualche modo vi potesse spingere a riflettere su qualcosa che di solito magari passa tra le altre cose sotto, inosservato. E quindi qualcosa su cui magari non ci si riflette spesso. Cioè, che cosa è un hacker oggi nel 2018? Che cosa vogliono che sia un hacker? Che cosa vogliamo che sia un hacker? Questo è un hackerspace. Benvenuti a tutti oggi in aula. Spero che insieme si possa riuscire a costruire, attraverso una visione comune di cosa può significare un positivo hacker, qualcosa di bello per tutti. Io credo che hacker significhi agire la trasformazione, essere hacker significhi quello. E credo che tutti, chi più chi meno, chi in modo consapevole e chi in modo inconsapevole, agiscano la trasformazione nel mondo. E che quindi si tratta semplicemente di riconoscersi, orientare gli sforzi per cercare di trasformarlo in un certo modo tutti insieme. Grazie. 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 Grazie.